Dov'è la giungla? Questa è un'altra cosa! Nessuno ci ha detto che era tutta un'altra cosa! Qualcosa è andato storto. Candina. Arrivo! Nonno Eddie. Buongiorno. Avete visto Spencer? È quello. È tornato lì dentro. Lo cerchiamo? Senti un rumore, eh? Non abbiamo scelto il personaggio! Ma siamo in Florida? Oh mio Dio. Aspettate. Siamo nei corpi sbagliati! Ho le articolazioni di burro. Oh beh. Mi sento snodato pure io. Non è possibile! Sono tornato ed è andata ancora peggio. Guarda qua. Uno. Due. Tre. Abbiamo qualche problema. Il gioco è rotto. Ascoltatemi, questo è un posto pericoloso. Dovete avere occhi dappertutto perché... Ma si può sapere? Che diamine era! Dove cavolo siamo? Ma guardami. Non avevo un fisico così da... Mai. Tu un fisico così? Mai. Ho gli occhi di un altro colore. Tu sei tutto di un altro colore. Guardate qua. Forze e debolezze. Linguistica. Ho un cielo. Non c'è Aku. Questa è nuova. Cacchio che bella lista. Debolezze. Caldo, sole e sabbia. Come può questo essere un personaggio di un gioco d'avventura? Ma che caldo fa, Gwen? Dobbiamo trovare Spencer e Bethany. Questa avventura è ancora più impegnativa. Stavolta non tutti voi uscirete dal gioco vivi. Bethany voleva aiutarvi. Dov'è Bethany? Eccola qua. Dice, oh mio Dio, sono troppo un cavallo. Sì, quella è Bethany. Ehi. Sei proprio negato a guidare. Ma che vai dicendo? Ho passato l'esame di guida lo scorso mese di nuovo. Chi è successo? Sì, sono tornata. Mi sei mancato tanto. Mio Dio, ragazzi, ciao. Bethany? Ragazzi, siamo tornati a Jumanji.